agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio benvenuti al meteo vortice sull'italia condizioni di maltempo al nord est anche intenso e clima piuttosto rigido il dettaglio di mercoledì 2 dicembre sul veneto sarà una giornata con un tempo spiccatamente instabile come detto il clima sarà freddo cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse dappertutto neve oltre i 600 800 metri sulle prealpi in pianura però non saranno totalmente da escludere debolissimi fiocchi di neve mista a pioggia forte vento di bora vediamo anche le temperature minime tra meno 1 e 2 gradi valori massimi compresi invece tra i 3 e i 5 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia dove avremo tutto sommato lo stesso scenario con precipitazioni diffuse vedete localmente anche di forte intensità sulle alpi deboli nevicate a partire dal pomeriggio temperature minime fino a un grado massime sui 3 5 gradi infine uno sguardo alla situazione del trentino alto adige andrà meglio al mattino poi peggiorerà con rovesci ovunque deboli nevicate sulle alpi temperature minime intorno allo 0 e meno 3 gradi massime fino ai 5 gradi all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio